Fare le riforme, alleggerire le pensioni anticipate e rivedere il reddito di cittadinanza dal Fondo Monetario Internazionale arriva una nuova analisi sullo stato di salute dell'Italia. La crescita sarà modesta in un quadro di rallentamento dell'economia mondiale. Sullo specifico dei temi italiani dal Fondo Monetario un giudizio in chiaro oscuro. Il reddito di cittadinanza andrebbe ripensato poiché scende troppo rapidamente al crescere della famiglia. Per quanto riguarda le pensioni invece, per il Fondo Monetario, nonostante l'Italia abbia fatto tanto con la legge Fornero resterebbero problemi per i conti pubblici, motivo per cui l'uscita anticipata andrebbe neutralizzata con la riduzione dell'assegno pensionistico. Dal fondo dunque due bacchettate proprio sui due provvedimenti del governo precedente, quello tra Lega e 5 Stelle provvedimenti che invece il Partito Democratico vorrebbe cambiare nella cosiddetta fase 2. Ma il clima post-elettorale è destinato nuovamente a peggiorare per il 12 febbraio. Previsto il voto in aula al Senato sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini sul caso della nave Gregoretti.